Botta e risposta tra Capistrello e Delphino Flaccoporto che al comunale è riaperto a pubblico. Mettono in scena una partita gradevole finita con un punto a testa. 4-3-3 per Giordani con Franchi e De Roccis dietro di giro all'amogobbo. Lupo e Rosini alle spalle di Petre nel 4-2-3-1 di Bonati. La cronaca si apre dopo tre giri di lancetta con Petre che di testa impegna Fanti. Ottimo il riflesso del numero uno che manda in corner. Ancora nel fino al quarto d'ora ci prova Lupo ma il suo colpo di tacco è una telefonata per Fanti. Ben più pericoloso il tentativo di Rosini un minuto dopo velo di Petre. Conclusione del 23 e salvataggio di Silvestri. Alla mezz'ora conclusione di prima intenzione di Gobbo. Servono i pugni di Fanti per disinnescare il pericolo. Tracce di Capistrello nel finale di tempo. Al 38esimo Rozzin patta di testa sul corner salva Lupo ben appostato. Al 43esimo Paneccasio per Franchi che incorna di testa palla di poco alta all'intervallo nel Capistrello. Dentro Lombardo per Antonini più tardi Cirelli prende il posto di De Roccis ma al dodicesimo è degli ospiti il primo a fondo con il piazzato di Lupo che sfiora il palo a Fanti battuto. Al 19esimo un cross di Lombardo a carezzare in crocio. Il pallone poi finisce tra i piedi del neontrato Deramo che in semivole trafigge Calore e fa 1-0. La girandola di sostituzioni da una parte e dall'altra non cambia sostanza alla partita. Il Capistrello sfiora il raddoppio con il neontrato Fuldi che recupera palla e prova a sorprendere Calore ma la sua conclusione termina di poco sul fondo. Al 39esimo svolta il match. D'Alessandro viene atterrato in aria per Gian Lorenzo di Sulmona. È calcio di rigore dal dischetto Varosini che spiazza Fanti e fa 1-1. L'ultima occasione di marca Granata con la rasoiata suppunizione di Fantauzzi che Calore respinge di pugno. Finisce con un punto a testa che accontenta entrambe le formazioni. Per come si era messa dopo il vantaggio del Capistrello avete reagito bene, avete portato a casa un punto importante, è arrivato su un campo difficile contro una squadra ostica. Sì, abbiamo continuato a giocare dopo il gol subito come avevamo fatto per tutta la partita, bene dal punto di vista tecnico, male dal punto di vista della capacità realizzativa. È un problema che sappiamo di avere e dobbiamo assolutamente intervenire perché partite come queste le si perdono. Siamo stati addirittura anche fortunati a pareggiarla, fortunati non per una questione di merito ma fortunati perché se il Capistrello magari avesse avuto una maggiore capacità di tenere il risultato, magari secondo me oggi se contavano i punti il Capistrello non si fa raggiungere e noi andiamo via veramente scossi da questa sconfitta. Dobbiamo riflettere perché rischiamo di buttare tutto il lavoro e rischiamo, dicevo ai ragazzi prima, che queste partite se le perdi retrocedi l'anno prossimo. Perché praticamente tu giochi l'intera partita meglio di loro, molto meglio di loro complessivamente, è una squadra forte in un campo ostico come dici tu, non finalizzi. E addirittura dopo l'1-1 ci siamo mangiati due situazioni a otto metri dalla porta. E' difficile parlare di questa partita come di tante altre perché giustamente abbiamo fatto pochi gol, è un nostro difetto e lo dobbiamo assolutamente mettere a posto. Mister, è arrivato questo pareggio, siete andati in vantaggio quasi alla metà del secondo tempo, poi è arrivato questo pareggio nel finale. Come lo avete accolto? C'è amarezza per come è arrivato il pareggio, c'è soddisfazione per questo punto contro un'ottima squadra? No, è un punto che accettiamo, c'è un po' di amarezza perché quando passi in vantaggio poi prendi gol alla fine, naturalmente ti dispiace. Però è un risultato giusto per quello che si è vista la partita, il primo tempo meglio loro, il secondo meglio noi. Si poteva vincere, si poteva perdere, il pareggio probabilmente è il risultato più giusto. Abbiamo già l'avviso aperto con loro, loro sono scesi in campo più determinati, quindi ci hanno messo un qualcosa in più. Ci hanno messo in difficoltà in quello che sappiamo fare, nel palleggio non ce lo permettevano e poi invece il secondo tempo abbiamo riequilibrato un po' la partita e potevamo pure chiuderla subito dopo il primo, l'1-0, nel senso fare subito il raddoppio, eravamo 3 contro 2, però ho detto il risultato è giusto. In questo momento è quello che possiamo dare, non possiamo dare di più, nel senso siamo un po' tra affaticamenti, caldi, allenamenti fatti in un determinato modo, quindi non possiamo dare di più in questo momento, è il massimo di quello che possiamo dare.